Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo qui da Carico Milano, siamo con i ragazzi di Amaro Today. Oggi andiamo a miscelare il secondo drink a base di Amaro di Langa. Siamo su uno shakerato che prevede una porzione abbondante di Amaro di Langa. Siamo all'incirca verso i 35 ml. Dopodiché abbiamo deciso di dargli un pochino più di complessità utilizzando una piccola parte di un ottimo room da Santo Domingo, in questo caso 15 ml. Abbiamo lavorato poi un succo di ananas che è stato precedentemente estratto e dopodiché chiarificato in centrifuga da laboratorio a 4.000 giri al minuto per ottenere il risultato più clear possibile. Giochiamo dopodiché con una parte acida data dal succo di lime fresco. Siamo all'incirca verso i 20 ml. 15 ml di sciroppo al miele. Ora, avendo l'ananas e il miele un potere emulsionante, andiamo prima a blendare il nostro drink e subito dopo a shakerarlo. Ora, piccolo tocco finale, andiamo a giocare con un pochino di paprika fumigata, il nome è Pimenton, che andrà a giocare molto bene con il gusto esotico dell'ananas. Grazie, guardatevi spett 아이�oli in quelje gli ananas. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!